È un gesto che noi interpretiamo come gesto di incoraggiamento per chi fa volontariato. Noi dobbiamo dire anche che comunque la città di Arezzo, nonostante che siamo, come diceva Dante che ci alzeccava, botoli ringhiosi, però effettivamente la generosità non manca, anche perché siamo discendenti, dobbiamo essere discendenti di quel mecenate che inventò il mecenatismo. Ancora un gesto di solidarietà nei confronti dei volontari della Croce Bianca di Arezzo. Otto paia di scarpe e infortunistiche donate da un'azienda del territorio, un gesto che guarda alla loro sicurezza. Sono necessari per esplicare il nostro servizio, in quanto trasportiamo letti, carrozzine, è possibile anche che succedano certi incidenti. Con queste scarpe ci mettiamo in condizioni di poterla svolgere nel migliore dei modi. Perché ho una grossa stima e volevo dare un valore aggiunto a questi ragazzi che fanno un lavoro immenso, spesso non viene riconosciuto. E non viene valutato, quindi ho pensato di poter donare a loro qualcosa che gli fosse estremamente utile, perché si parla comunque di sicurezza, e che avessero modo così di lavorare con più sineralità e con più tranquillità nei loro ambienti. Secondo me se lo meritano. Fanno un lavoro eccezionale e in pochi glielo riconoscono, perché è un lavoro silenzioso, è un lavoro che non si vede, ma in realtà è un lavoro veramente, veramente eccezionale. Io spero che questa piccola cosa possa essere esempio per chiunque voglia dare loro una mano in tutti i sensi. Se non è per le scarpe, i vestiti, per qualsiasi modo possa essere utile a questi ragazzi.